Amici parrucchieri ciao a tutti! Quante volte avete pensato che essere un bravo acconciatore non significhi solo saper maneggiare forbici e pennelli, ma anche avere una solida cultura tricologica? Sì lo so, sembra un po' come tornare sui banchi di scuola, ma la verità è che nella bellezza dei capelli la cultura fa davvero la differenza. Essere informati sulle ultime scoperte scientifiche, sui trattamenti più innovativi e sulle migliori pratiche nel campo della cura dei capelli non solo migliora la nostra professionalità, ma fa anche la differenza per i nostri clienti. Quindi se siete pronti ad ampliare le vostre conoscenze e a scoprire nuove prospettive sulla cura dei capelli siete nel posto giusto. Oggi voglio condividere con voi un'opportunità imperdibile che potrebbe trasformare il vostro approccio alla cura dei capelli. Come air color trainer mi diverto un sacco a insegnare tutti i trucchi del mestiere per fare magie con i colori, ma sapete una cosa? Essere un acconciatore non riguarda solo sapere come tingere i capelli, ma anche come mantenerli sani e splendenti. Quindi sì, possiamo essere degli artisti con le forbici, ma dobbiamo anche essere un po' nerds dei capelli. Perché mai? Perché solo se conosciamo bene la salute dei capelli possiamo davvero fare la differenza per i nostri clienti. E parlando di conoscenza ecco un evento che non potete assolutamente perdere, il webinar Isolinea sulla lopecia areata. È gratis quindi non c'è scusa per non partecipare. È in programma per giovedì 22 febbraio alle ore 21. Vi invito ad iscrivervi subito cliccando sul link in descrizione e nel primo commento. Durante questo webinar affronteremo tutte le insidie della lopecia areata esplorando cause e trattamenti in modo approfondito. I relatori dell'evento saranno Stefano Bucci, fondatore di Isolinea e affermato tricologo e il dottor Gabriele Mongitore, esperto biologo. Quindi unitevi a noi per una serata di apprendimento. Più conoscenza abbiamo, meglio possiamo servire i nostri clienti. Non fatevelo sfuggire, ci vediamo là!